vivere in una casa tranquilla rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura è necessario tenere presente che i ladri in genere agiscono o ritengono che vi siano meno rischi di essere scoperti ad esempio un alloggio momentaneamente disabitato è un qualcosa che attira un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tenere d'occhio le vostre abitazioni in ogni caso ricorda l'utilizzo del numero unico di emergenza 112 in caso di qualche dubbio per sé o per i vicini di casa non esitate a chiamare il numero di emergenza 112 carabinieri polizia di stato vigili del fuoco l'emergenza sanitaria anche il comando di polizia locale un sopralluogo comunque lo farà